Oggetto di questa video lezione sono i film italiani che hanno come argomento quello della mafia. La mafia è un argomento che nel cinema italiano viene trattato a partire dal dopoguerra. Un primo grande film sulla mafia è un film del 1949 che si intitola Il nome della legge di Pietro Germi. Ma dopo il 1949, negli anni 50-60, la mafia viene espunta dal dibattito culturale, viene rimosse, qualcosa di cui non si deve parlare. Addirittura in televisione diventa una parola impronunciabile, la mafia non si può neppure alludere. Ma cos'è la mafia? La mafia è naturalmente una forma di criminalità organizzata, è la forma che la criminalità organizzata assume in una determinata area del nostro paese, che è la Sicilia, ovvero quando noi parliamo di mafia parliamo della malavita organizzata siciliana. Poi utilizziamo il termine mafia per estensione anche per indicare altre tipologie di malavita organizzata che sono caratterizzate anch'esse come la mafia dalla loro localizzazione. Pertanto noi definiamo, per esempio, Camorra la criminalità organizzata, la malavita organizzata che ha sede in Campania, Sacra Corona Unita, quella che ha sede in Puglia, e Andrangheta, quella che invece ha sede nella Calabria. Ora, noi oggi naturalmente prenderemo in considerazione tre film, tre film che ci sembra possano essere considerati rappresentativi di un intero approccio che il cinema italiano ha avuto nel corso del tempo con il tema oggetto di questa nostra videolezione. Il primo film di cui vorremmo parlare è un film che si intitola Il giorno della civetta. Eccolo qua. È un film del 1968, è un film tratto da un'opera letteraria. All'origine del film c'è un romanzo di Leonardo Sciascia. Il romanzo è del 1961, il film è del 1968, quindi il film viene realizzato sette anni dopo che Sciascia ha scritto e pubblicato per Einaudi il suo libro. Il protagonista di questo film è un attore che si chiama Franco Nero, si vede qui nel ruolo del capitano dei carabinieri Bellodi, un uomo del nord che viene spedito nel sud, in un paesino siciliano, dove si trova subito a risolvere un caso, la morte di un imprenditore edile. Si trova subito a domandarsi il perché questo imprenditore sia stato ucciso e indagando scopre che nell'omicidio di questo imprenditore è coinvolta la mafia. Infatti l'altro protagonista del film è Don Mariano Arena, eccolo qui, che è il boss del paese in cui si svolge la vicenda, è il padrino locale della mafia. Don Mariano Arena è interpretato da un grande attore americano che si chiama Lee J. Cobb. Poi nel film c'è anche una protagonista femminile, la vedete proprio qui accanto a Lee J. Cobb, che è Claudia Cardinale. Claudia Cardinale che, come è noto, è una delle più grandi attrici del cinema italiano, direi nella storia del cinema italiano. Un'attrice sulla quale ho scritto un libro circa dieci anni fa, che chi volesse approfondire la figura di questa attrice può eventualmente recuperare. Il film è un film che parla della mafia, è un film che mette a confronto lo stato che è rappresentato dal capitano dei carabinieri Bellodi, interpretato da Franco Nero. Franco Nero era, ed è ancora oggi, una star del cinema italiano. All'epoca era reduce dall'enorme successo avuto con un film western che si intitolava Django di Sergio Corbucci. Quindi Franco Nero all'epoca è proprio una star. Ecco, lo stato era rappresentato dal capitano dei carabinieri Bellodi, interpretato da Franco Nero. Mentre la mafia dal padrino locale, dal boss locale, Don Mariano Arena, appunto interpretato da Lee J. Cobb. Quindi il film mette in contrapposizione lo stato e la mafia. Questa contrapposizione viene presentata come se fossimo in una sorta di western. Il film è ambientato in Sicilia, all'inizio degli anni Sessanta, esattamente come il romanzo di Sciascia. Ma in realtà la modalità con cui viene raccontata la vicenda è un po' quella del western, soprattutto nel film Il giorno della civetta, che è diretto da Damiano Damiani. Ora, in questo film perché diciamo che la modalità per raccontare la mafia è quella del western? Perché in qualche modo il capitano dei carabinieri, che indaga sul delitto e arriva a scoprire la responsabilità della mafia, è come se fosse una sorta di sceriffo, che arriva in una cittadina dove praticamente la malavita, i fuorilegge, la fanno da padroni. E così appunto il boss della mafia è presentato come se fosse il capo dei fuorilegge in una cittadina del western, come potremmo vederlo in un film western. Ora, questa contrapposizione nel film è molto evidente. C'è per esempio una sequenza, aperta parentesi, il film lo potete vedere integralmente su YouTube, sull'account di Film Eclipse. Ecco, c'è una sequenza, dicevo, in cui i propri due personaggi vengono messi a confronto, contrapposti, come se trovassimo in un western. È una sequenza in cui Don Mariano, Lee Jacob, si trova su una terrazza, circondato da tutti i suoi uomini, da quelli che rappresentano i rami esecutivi del suo potere mafioso. In mezzo, sotto, c'è la strada, una piazza del paese. Nell'edificio di fronte c'è la caserma dei Carabinieri. A un certo punto Don Mariano, dalla terrazza, guarda verso la caserma dei Carabinieri e vediamo il capitano dei Carabinieri che in qualche modo risponde al suo sguardo. Quindi una sorta di sfida a distanza, la contrapposizione è netta. Ci sembra veramente quasi di essere in un film western. Infatti non è forse, come dire, sciocco considerare questo film alla luce magari di certi classici del cinema western hollywoodiano come per esempio My Darling Clementine di John Ford che in italiano si intitola Sfida Infernale. Ecco, anche in quel film avevamo Wyatt Earp che rappresentava lo Stato, le istituzioni, l'ordine e dall'altra parte Walter Blannon, Pat Clanton che invece era il fuorilegge, il capo dei fuorilegge. Alla fine Wyatt Earp e Clanton arrivano allo scontro finale ed effettivamente uno scontro finale ci sarà anche nel film Il giorno della civetta che quindi è realizzato secondo dei moduli spettacolari come se fosse quasi un film hollywoodiano una sorta di western, ma non all'italiana, ma western italiano perché è l'Italia stessa, l'Italia degli anni Sessanta che viene presentata come se fosse il west americano dell'Ottocento non, come dire, tutta l'Italia, ma una parte d'Italia in qualche modo la provincia siciliana il film si svolge in un paese che è anche lontano dai centri urbani e metropolitani più importanti della Sicilia Il giorno della civetta è un film che ottiene un grande successo e per certi versi possiamo dire che contribuisce a sdoganare la mafia anche nel dibattito pubblico, nell'immaginario collettivo il film tra l'altro è anche molto coraggioso come lo è il libro di Sciascia da cui il film è tratto perché mette il dito nella piaga delle infiltrazioni mafiose nello Stato, nella politica ovvero il film ci presenta una mafia che tanto è forte per quanto è legata alla politica per quanto è legata a quella politica che amministra lo Stato in Sicilia, nella regione siciliana c'è una sequenza particolarmente interessante rispetto a quanto vi sto dicendo è la sequenza in cui Don Mariano cammina lungo una via del paese e viene seguito con lo sguardo da Franco Nero dal capitano dei Carabinieri a un certo punto Don Mariano, Lee Jacob si ferma davanti ad una sede della democrazia cristiana riconosciamo che è una sede della democrazia cristiana ricordiamo il principale partito di governo nazionale all'epoca e lo sarà ancora per molto tempo lo vediamo quindi che si ferma davanti a una sede della democrazia cristiana e capiamo che è una sede della democrazia cristiana dallo scudo crociato cioè dal simbolo della democrazia cristiana che si trova appunto sulla sommità di questo portone quindi il messaggio è naturalmente chiaro non è neppure in codice Don Mariano in quel momento dice guarda che non mi puoi toccare non puoi andare a indagarmi o a farmi oggetto di un'indagine perché io in qualche modo sono protetto io sono sotto lo scudo crociato c'è qualcuno che sta sopra di me che mi protegge in fin dei conti sembra quasi di Don Mariano io sono l'esecutore di una volontà che è soprattutto politica e che amministra la regione, la Sicilia con la complicità della mafia quindi una denuncia così diretta così forte forse in nessun altro film italiano precedente era stata rappresentata in modo così chiaro quindi un film indubbiamente che ha dei meriti ancora oggi guardare un film come il giorno della civetta significa comprendere quanto la mafia abbia potuto prosperare nel nostro paese e soprattutto in una certa regione nel nostro paese che è la Sicilia ma naturalmente la mafia interessa tutta l'Italia purtroppo ma grazie alla complicità della politica naturalmente di una certa politica e di certi politici che poi nel tempo sono stati anche condannati proprio perché si sono riconosciute le loro complicità con la mafia il film è tratto da un'opera letteraria lo scrittore del giorno della civetta del romanzo del giorno della civetta è, l'abbiamo detto, Leonardo Sciascia Sciascia è uno scrittore molto importante è uno scrittore che ha spesso raccontato nei suoi libri, nelle sue opere proprio la commissione tra il potere e la malavita organizzata un romanziere, uno scrittore che ha scritto diversi libri diversi di questi libri sono stati poi portati sul grande schermo ovvero sono stati trasposti in opere cinematografiche ora sarebbe troppo lungo approfondire questo argomento basti dire che da un'opera di Sciascia è stato tratto anche un famoso film di Elio Petri che si chiama Todomodo che è un film che nel 1976 addirittura arrivava a prefigurare il rapimento e l'omicidio di Aldo Moro quindi pensate insomma quanto questo scrittore riuscisse a leggere non solo nell'attualità ma riuscisse a capire anche come il futuro dipendesse da una certa attualità qui uno scrittore straordinario che andrebbe assolutamente recuperato uno di quegli scrittori che dovrebbe essere studiato nelle scuole e nelle università perché ha raccontato il nostro paese in modo veramente mirabile Il giorno della civetta quindi abbiamo detto è un film che affronta il tema della mafia in modo quasi spettacolare cioè la mafia diventa in qualche modo lo spunto per realizzare un film che sembra quasi un western quindi la modalità d'approccio è in qualche modo quella del cinema popolare anche questo naturalmente spiega perché questo film abbia avuto così grande successo perché è un film che al suo interno ha elementi d'avventura elementi di giallo ovvero di detection di misteri elementi sentimentali perché abbiamo detto che c'è una protagonista femminile forte interpretata da Claudia Cardinale e quindi si può immaginare come a un certo punto si realizzi una sorta di relazione sentimentale tra il capitano dei carabinieri e questa giovane donna siciliana c'è un cattivo il boss locale della mafia il padrino Don Mariano Arena che è un cattivo come dire cattivissimo e c'è poi la rappresentazione di quello che era la mafia in quel determinato periodo della sua storia la mafia poi nel tempo è cambiata quindi negli anni 60 ancora la mafia per quanto fosse una organizzazione criminale aveva una sorta di suo codice etico per cui non bisognava assolutamente toccare donne, bambini non bisognava assolutamente come dire utilizzare la strage come modalità per combattere le istituzioni democratiche ora questi aspetti naturalmente col tempo sono completamente spariti dalla mafia e certi residui tra virgolette tra molte virgolette etici sono etici sono caduti tanto che poi sappiamo che si arriverà all'inizio degli anni 90 in cui la mafia ricorrerà alle bombe ricorrerà al tritolo all'esplosivo mettendo quindi a rischio e di fatto uccidendo in modo indiscriminato questo negli anni 60 la mafia non lo faceva come non per esempio ricorreva al traffico degli stupefacenti sempre per questa sorta di codice etico in seguito queste residue barriere etiche se così lo vogliamo chiamare perché parliamo di una organizzazione criminale andranno a cadere quindi la mafia diventerà appunto l'organizzazione criminale che oggi naturalmente purtroppo conosciamo e che purtroppo ancora oggi ha un peso sulle vicende di questo paese Damiano Damiani il regista del film Il giorno della civetta è un regista che non a caso prima di realizzare questo film aveva anche realizzato un film western chi è un sabio un film sulla rivoluzione messicana e questo appunto vi dice ancora di più quanto fosse un regista abituato ad un cinema anche avventuroso per certi versi epico sicuramente spettacolare e popolare sanamente commerciale ecco perché Il giorno della civetta è un film popolare perché è il film di un regista che indubbiamente conosceva il modo migliore per far arrivare un tema al più vasto pubblico possibile Damiano Damiani nella sua attività di regista è tornato spesso ad affrontare il tema della mafia ad affrontare anche quelli che sono gli snodi della storia italiana un regista molto interessante a cui si deve anche il primo sceneggiato televisivo ovvero la prima fiction televisiva realizzata in Italia che ha come argomento la mafia che è La Piovra La Piovra è uno sceneggiato è una fiction televisiva che all'inizio degli anni 80 ha portato la mafia in tutte le case degli italiani quindi in qualche modo dall'inizio degli anni 80 dopo che la mafia era stata già sdoganata al cinema di mafia si poteva parlare anche in televisione anche in prima serata anche ai milioni di spettatori dopo che per tanti anni per decenni il termine mafia doveva essere rimosso in televisione non si poteva parlare di mafia negli anni 50 e 60 negli anni 80 invece la mafia diventa il tema di uno sceneggiato di grandissimo successo La Piovra la prima edizione la prima stagione è diretta da Damiano Damiani poi successivamente viene diretta da altri registi e la serie prosegue per moltissime altre stagioni a dimostrare come in quel momento appunto ormai la mafia era diventato un tema da trattare anche su larga scala popolare quella della televisione generalista italiana passano alcuni anni e un film completamente diverso dal giorno della civetta è il film I cento passi è un film del 2000 abbiamo visto abbiamo detto come il giorno della civetta fosse un film che trattasse la mafia in modo anche spettacolare I cento passi invece diretto da Marco Tullio Giordana con Luigi Rocascio è un film che affronta la mafia in modo completamente diverso è quello che si può definire un film d'autore è sicuramente anche un film d'impegno un film di denuncia civile per certi aspetti anche un film politico ma con il termine politico intendiamo qualcosa naturalmente di nobile qual è la storia di questo film dei cento passi il film è ambientato alla fine degli anni settanta ed è la storia di un ragazzo Peppino Impastato è la storia vera di un ragazzo Peppino Impastato che lavora in una radio privata Radio Out è speaker in questa radio privata e conduce dei programmi in cui attacca frontalmente la mafia e in particolare il boss mafioso del paese siciliano cinisi in cui vive questo boss si chiama Tano Badalamenti quindi attraverso la radio questo ragazzo con grande coraggio a partire dalla fine degli anni settanta attacca frontalmente la mafia ora perché il film si chiama i cento passi il film si chiama i cento passi perché i cento passi sono esattamente la distanza che separa la casa del ragazzo di Peppino Impastato dalla casa del boss mafioso Tano Badalamenti sono praticamente cento passi ecco perché i cento passi ma quei cento passi sono una distanza metaforica simbolica sono quei cento passi che Peppino Impastato si rifiuterà sempre di percorrere perché Peppino Impastato è un ragazzo che decide di stare dalla parte dello Stato della legge delle istituzioni democratiche dell'ordine della legalità del rispetto dell'umanità mentre Tano Badalamenti è appunto il boss della mafia ovvero di un'organizzazione criminale che si sostituisce allo Stato che combatte lo Stato per sostituirsi allo Stato e se non si sostituisce allo Stato quantomeno cerca con lo Stato il modo per relazionarsi come succedeva e come ancora succede oggi che spesso la politica o certe amministrazioni dello Stato sono infiltrate dalla mafia cioè sono di fatto un'emanazione o comunque una parte in causa della mafia Peppino Impastato purtroppo morì a soli 30 anni era il maggio il 9 maggio del 1978 quando Peppino Impastato morì morì vittima proprio della mafia paradossalmente morì proprio nelle ore in cui veniva ritrovato il cadavere di Aldo Moro e quindi la morte di Impastato è come se fosse passata all'epoca quasi sotto traccia no perché poi la mafia uccise Peppino Impastato ma cercò di far passare questo omicidio come un suicidio quindi realizzò una sorta di bensiscena tutto questo praticamente all'epoca contribuì a far dimenticare Peppino Impastato e quindi è stato importante che nel 2000 con i Cento Passi il regista Marco Tullio Giordana abbia recuperato la storia di questo ragazzo e abbia in qualche modo riportato alla luce la testimonianza di un giovane appena trentenne che aveva il coraggio di sfidare la mafia in casa di fare nomi e cognomi di fare una denuncia aperta diretta della mafia tutto questo con lo strumento della radio la radio erano alcuni anni che erano nate in Italia in seguito a una sentenza della Corte Costituzionale la 202 del 1976 che ho già peraltro richiamato in alcune videolezioni precedenti ecco grazie a quella sentenza della Corte Costituzionale nel 1978 già da qualche tempo era possibile in Italia la creazione di radio libere radio indipendenti che erano chiaramente una dimensione locale il radio out la radio da cui trasmetteva Peppino Impastato era appunto una radio locale libera privata indipendente quindi non era come per esempio la RAE la radio televisione di Stato soggetta al controllo della politica era una radio appunto in cui si potevano dire certe cose anche se dire queste cose comportava poi un rischio Peppino Impastato quindi ancora oggi può essere considerato un modello di principi etici assolutamente attuali perché ancora oggi naturalmente è necessario testimoniare la civiltà democratica la civiltà legata alla giustizia all'egualità testimoniare questa civiltà rispetto a quella che è la prepotenza della mafia quindi un personaggio ancora oggi attualissimo e questo film lo ripeto di cento passi in cui il personaggio il protagonista Peppino Impastato è interpretato da Luigi Locascio un ottimo attore di cinema e di teatro questo film è un film che andrebbe sono passati ormai vent'anni ma andrebbe riproposto rivisto continuamente per ricordarci anche di questo ragazzo che ha perso la vita combattendo contro la mafia sacrificandosi per tutti noi per combattere questo cancro inestirpabile apparentemente inestirpabile che è la mafia il film però dicevo i cento passi è un film completamente diverso da il giorno della civetta perché se il giorno della civetta appunto aveva quasi modalità da film western i cento passi è soprattutto un film drammatico e per certi versi esistenziale perché ha un protagonista di cui noi in qualche modo arriviamo a conoscere la dimensione psicologica esistenziale arriviamo in qualche modo a comprenderne anche la crescita la ribellione a certi stereotipi arriviamo a comprenderne la nascita il lui che pure proveniva da una famiglia di mafiosi di un forte desiderio di legalità di giustizia di democrazia ecco tutto questo è raccontato in chiave psicologico comportamentale non disgiunta da un'analisi naturalmente sociologica del contesto il contesto è quello di una cittadina cinese siciliana controllata dalla mafia dove essere contro la mafia è un atto di estremo coraggio che appunto lo ripetiamo peppino impastato purtroppo pagò con la propria vita il terzo film è un film di segno opposto anch'esso ai due di cui finora abbiamo fatto cenno che è la mafia uccide solo d'estate eccolo qui è un film del 2013 come vedete fin dal titolo la mafia uccide solo d'estate è un film che si pone in chiave ironica rispetto al fenomeno mafioso il film lo potremmo definire una commedia grottesca anzi forse per certi versi siamo nel 2013 questo film è uno dei primi film che affronta la mafia in chiave di commedia ora non che in passato questo non fosse avvenuto però i film in cui si rideva della mafia erano sostanzialmente dei film comici soprattutto negli anni 60 oppure erano commedie che rimanevano per certi versi nell'ambito della riproposizione di certi luoghi comuni come per esempio Johnny Stecchino di Roberto Benigni mentre questo film la mafia uccide solo d'estate è il primo film in cui la mafia viene dissacrata in termini di ironia e commedia grottesca ma è anche il primo film non drammatico in cui vengono fatti i nomi e cognomi dei mafiosi in cui la mafia la storia vera della mafia entra dentro il film con quelli che sono stati i protagonisti anche delle infiltrazioni mafiose nello stato in questo film si fanno i nomi e i cognomi dei politici per esempio che hanno permesso alla mafia di governare tra virgolette la Sicilia è un film quindi da questo punto di vista anche coraggioso che non manca di una forte denuncia l'attore protagonista ma anche regista del film è Pio Francesco Diliberto eccolo qua Pio Francesco Diliberto in arte pif è un personaggio che nasce in televisione in televisione Pio Francesco Diliberto è come dire una sorta di giornalista dotato di molto humor che realizza interviste servizi il tutto avendo un regista estremamente ironico ora questo personaggio che quindi si occupa di cronaca di giornalismo in televisione viene portato al cinema al cinema appunto pif in qualche modo porta a quelle che erano modalità per certi versi di racconto televisivo di linguaggio televisivo tanto che in questo film La mafia uccide solo d'estate sono presenti tanto scene di fiction cioè scene girate in cui appunto c'è un racconto cinematografico tanto materiali di repertorio cioè in questo film noi troviamo anche materiali di repertorio ovvero troviamo degli spezzoni da trasmissioni televisive troviamo degli spezzoni che riproducono non so gli omicidi della mafia piuttosto che il famoso maxiprocesso alla mafia quindi è un film oltretutto da questo punto di vista interessante perché mette insieme due piani quello televisivo e quello cinematografico cioè nel film ci sono tanto elementi cinematografici cioè di fiction quanto elementi televisivi cioè abbiamo materiali di repertorio quindi una parte che è praticamente quasi documentaria potremmo definire quasi documentaria il tutto tutto questo naturalmente è unito dalla figura del protagonista che è interpretato dallo stesso Piff e chi è il protagonista il protagonista è un ragazzo che cresce nella Sicilia degli anni 70 80 primi 90 quindi attraverso la crescita di questo personaggio che all'inizio è bambino e poi diventa un adulto un professionista alla fine sceglie di fare il giornalista non a caso ecco attraverso questo arco temporale attraverso lo sviluppo di questo personaggio noi veniamo messi di fronte alla storia della mafia in Sicilia in quello stesso periodo quindi tutto quello che avviene di importante nella storia della mafia tra gli anni 70 e prima anni 90 viene raccontato all'interno del film quindi il film ha anche se volete un valore didattico informativo ha un valore di carattere storiografico perché attraverso la storia di questo ragazzo noi in qualche modo ripercorriamo la storia della mafia negli anni 70 80 e 90 soprattutto ripercorriamo la storia della contiguità di una certa politica di certi politici alla mafia di questi politici vengono fatti i nomi e cognomi anzi in alcuni casi vediamo proprio i personaggi stessi interpretati da attori oppure riproposti in materiale di repertorio quindi è praticamente un film che ha anche un valore didattico ora questo film è stato un grande successo di pubblico forse perché come dicevo per la prima volta un argomento così drammatico con conseguenze così tragiche veniva trattato in chiave ironica in chiave di commedia tanto che dopo questo film che è del 2013 vennero realizzate due stagioni di una serie televisiva cioè la mafia uccide solo d'estate eccolo qui vi ricordo il titolo divenne una serie televisiva con due stagioni all'attivo quindi è possibile recuperare anche queste due stagioni naturalmente nella serie televisiva si poteva anche più approfondire proprio questo aspetto di racconto della mafia in Sicilia tra gli anni 70 80 e 90 ora questi tre film di cui abbiamo parlato che ve lo ricordo sono Il giorno della civetta Cento passi e La mafia uccide solo d'estate ecco al di là di questi film naturalmente nel cinema italiano ci sono molti film che affrontano l'argomento della mafia questi li abbiamo scelti perché ci sembrano anche particolarmente significativi anche rappresentativi di alcune modalità di approccio quella popolare da western del giorno della civetta quella d'autore drammatica di Cento passi e poi quella scansonata divertente della mafia uccide solo d'estate cioè di un film che intende proprio dissagrare il fenomeno mafioso cioè di far vedere quanto alla fine siano tragicamente ridicoli anche i mafiosi nella loro identità ecco sono però tanti altri i film che trattano la mafia tra gli altri registi che ha trattato questo argomento credo che valga la pena considerare soprattutto Francesco Rossi ecco chi volesse potrebbe anche recuperare un ebook che ho scritto sul cinema di Francesco Rossi Francesco Rossi è stato un grande regista del cinema italiano che si è trovato più volte ad affrontare il tema della mafia e soprattutto il tema delle contaminazioni mafiose negli apparati dello Stato in film straordinari come Le mani sulla città un film del 1963 un film ambientato a Napoli quindi in quel caso più che di mafia possiamo parlare propriamente di Camorra un film sulla speculazione di Lizia ovvero come la speculazione di Lizia diventa in qualche modo un'arma di penetrazione della mafia nei gangli dello Stato ma il regista Francesco Rossi un anno prima aveva realizzato nel 1962 un film come Salvatore Giuliano quindi un film che è un po' alle origini dell'espansionismo della mafia in Sicilia nell'immediato secondo dopoguerra e su questo tema Rossi realizza anche un altro film che si chiama L'Achi Luciano molti anni dopo siamo all'inizio degli anni 70 l'argomento mafia poi entra in altri film di Francesco Rossi come Dimenticare Palermo Cadaveri Eccellenti Tre Fratelli ovvero parliamo di un regista Francesco Rossi che è stato forse il più importante regista italiano di impegno civile l'impegno politico cioè il regista italiano che ha denunciato più nettamente quella che era una sorta di politica tesa in senso lato sbagliata nel nostro paese cioè come praticamente certi momenti della storia del nostro paese siano stati caratterizzati da una cattiva politica ma non solo a un certo punto si è allargato anche a un più ampio universo politico quando è realizzato un film come Il caso Mattei il film Il caso Mattei racconta la storia di Enrico Mattei che fu una sorta di geniale uomo pubblico di stato che a un certo punto pensò che l'Italia potesse essere autosufficiente dal punto di vista energetico e questo uomo morì in un incidente naturalmente incidente per modo di dire in una sorta di attentato mentre era in volo con il proprio aereo personale in quel caso chi ha ucciso Mattei secondo il regista Francesco Rosi Mattei è stato ucciso da una sorta di lobby internazionale chiamiamola così per semplificare che non voleva che l'Italia diventasse dal punto di vista energetico autosufficiente quindi in quel caso proprio il discorso sulla mala politica di Francesco Rosi si allarga a una dimensione decisamente internazionale la mafia naturalmente continua ad essere protagonista di film italiani anche negli ultimi anni abbiamo assistito a tutto un proliferare di film sulla mafia però tuttavia a parte alcuni casi ecco non ci sembra che film italiani recenti sulla mafia a parte ripeto alcune eccezioni abbiano anche nell'immaginario collettivo la forza che hanno i film di Francesco Rosi che ha uno sceneggiato come La Piovra e che hanno tra gli altri non moltissimi altri i tre film di cui abbiamo parlato in questa video lezione Il giorno della civetta 1968 di Damiano Damiani con Franco Nero Claudia Cardinale e Lee Jacob I cento passi 2000 di Marco Tullio Giordana con Luigi Locascio nel ruolo di Peppino Impastato eroe dell'antimafia morto a soli 30 anni e poi la mafia uccide solo d'estate 2013 di Piff un film l'abbiamo detto ironico leggero divertente pur trattando un tema drammatico tragico un film a cui non manca anche il risvolto sentimentale perché se noi andiamo a vedere proprio la copertina del DVD del film come potete vedere accanto al protagonista c'è anche una ragazza e questa ragazza appunto è la ragazza che il nostro protagonista ama e rincorre un po' per tutto il tempo una sorta di suo sogno proibito di donna ideale quindi per far capire come in questo film il racconto è anche personale cioè racconta anche quello di un ragazzo che cresce in Sicilia e che naturalmente a un certo punto si innamora di una ragazza che diventa un po' una sorta di di sogno che lui inseguirà ecco quindi c'è anche questo se volete aspetto sentimentale non è alieno dal film anche questo aspetto sentimentale quindi per dire come questo film apparentemente semplice è un film però anche estremamente stratificato linguaggio televisivo cinematografico commedia sulla mafia ma anche commedia sentimentale che non rinuncia a mostrare anche la tragicità degli avvenimenti quindi un film che è riuscito a mettere insieme tutto questo e nello stesso tempo a colpire lo spettatore ad essere un fenomeno popolare tanto che appunto come dicevamo successivamente da questo film è nata una serie televisiva in due stagioni parlando sempre di questo personaggio che si chiama Piff regista e protagonista di La mafia uccide solo d'estate possiamo anche ricordare che poi successivamente ha fatto un film che si intitola In guerra per amore che ritorna un po' sugli stessi temi anche se quel film è ambientato durante la seconda guerra mondiale e nell'immediato dopo guerra quando la guerra praticamente sta finendo o è appena finita e quel film denuncia proprio ecco perché parla ancora di mafia il momento in cui la mafia siamo a partire dal 1945 46 la mafia prende possesso politico amministrativo di una parte dell'Italia meridionale soprattutto di una parte considerevole della Sicilia quindi anche quello è un tema che è quello della mafia in un film che apparentemente racconta un episodio che si svolge durante la fine della seconda guerra mondiale perché naturalmente la mafia non nasce da un giorno all'altro quando nasce la mafia nasce durante il risorgimento in ottocento inizio nasce anche per secondare delle istanze di indipendenza rispetto al potere centrale poi a un certo punto la mafia declina come potere declina soprattutto durante il fascismo perché il fascismo essendo uno stato autoritario non tollera un altro stato all'interno dello stato quindi durante il fascismo la mafia viene aspramente combattuta almeno in superficie almeno apparentemente il fascismo manda in Sicilia per combattere la mafia il famoso prefetto Mori ecco il prefetto Mori è il protagonista oltretutto di un film dallo stesso titolo Il prefetto Mori di Pasquale Squitieri con Giuliano Gemma nel ruolo del prefetto Mori che racconta proprio quest'azione di contrasto del fascismo alla mafia siciliana e quindi durante il fascismo la mafia viene combattuta ripeto almeno apparentemente perché poi anche su questo possiamo poi aprire una serie di parentesi però la mafia una volta caduto il fascismo invece torna prepotentemente alla ribalta e questo questo percorso della mafia viene raccontato in questo film di Pierfrancesco di Liberto che si intitola In guerra per amore quindi per certi versi un altro film sulla mafia di Pierfrancesco